questa idrogen valle quella di modena e credo che sia il più importante esempio completo di idrogen valli in italia che cominciamo a realizzare su un territorio come modena come la regione emilia romagna dove è facile innovare e quindi questo agevola anche poi l'incremento di produttività per il tessuto industriale ma anche di benessere per i cittadini l'idrogeno è uno dei principali protagonisti della transizione energetica è uno dei nostri assi delle nuove infrastrutture green del gruppo era che ci permetterà di dare un nostro contributo per la decarbonizzazione delle nostre città dei nostri territori di riferimento grazie a tutti